certo il mare arrabbiato lo è e come e certo la neve alla fine è caduta e in qualche caso sta ancora accadendo e l'aria dei balcani in effetti la stiamo sentendo nelle ossa ed è altrettanto certo che il maltempo altrimenti detto inverno sia arrivato come da programma e da previsioni appunto che però almeno fin qui gli scongiuri sono ammessi si sono rivelate un po più apocalittiche della situazione reale sarà che tra le esperienze del passato e alcune lezioni tragiche tutti dai cittadini alle amministrazioni si sono fatti trovare più pronti ad accogliere il freddo la neve il gelo e sarà pure che i succitati in fondo hanno espresso una furia tutto sommato contenuta o forse sarà che come recita la saggezza popolare la neve l'ha sempre fatta sicuramente la tramontana ci ha salvati da buffere da cumuli di neve è chiaro però che il mare è forza sette con il vento a 130 km orari insomma ha creato problemi su pescara montesilvano ok su francavilla ci sono stati quegli interventi tampone che hanno fatto recentemente hanno salvato le strutture balneari nonché le civili abitazioni ci aspettiamo adesso il riporto di sabbe su casal bordino invece purtroppo i lavori ancora sono partiti e dalle immagini che si possono vedere si intravede che il mare ormai lambisce la strada cioè sta mettendo a rischio la strada principale del lungomare di casal bordino io credo che in questo momento il sindaco debba intervenire subito così come fatto il sindaco di francavilla in attesa degli interventi da fare